Donato, non ti abbiamo chiamato a caso, c'è un motivo preciso perché tu crediamo abbia riassunto con le tue luminarie delle feste un messaggio che tutto il mondo, il mondo intero vorrebbe lasciarsi alle spalle o no? Allora diciamo che per tutti quelli che hanno passato quest'anno con gli occhiali e la mascherina, che hanno visto il mondo appannato, è quello il messaggio, eccolo là, inequivocabile, la luminaria che mi è venuta in mente quest'anno è stata questa. Apprezziamo molto l'idea dell'asterisco, questa vedo non vedo, dico non dico, diplomatico. 2020? Fuck. Ah sì, proprio una liberazione. Grazie a tutti.